È molto difficile comprendere appunto quanto questi rapporti siano da considerare come puramente conflittuali e in un certo senso anche di tipo coloniale, possono essere considerati nel corso dei secoli passati, prima appunto dell'indipendenza ucraina, ma al tempo stesso c'è anche un forte legame per cui è particolarmente doloroso forse vedere un conflitto tra questi due paesi.